Il viaggio al santuario di Lourdes non esisteva, ma il denaro versato per prenotarlo sì, lo hanno accertato i carabinieri che per questo hanno denunciato un operatore turistico di 65 anni di Alvito in provincia di Frosinone per il reato di truffa. Gli investigatori sospettano che abbia raggirato due anziane signore, entrambe di 80 anni, una di Ponza e una di Formia, per farsi versare i soldi con cui comprare pacchetti viaggio con i quali andare in vacanza nel celebre santuario in Francia, pacchetti che invece non sono mai stati forniti dall'agente di viaggio. Le indagini condotte dai carabinieri di Formia sono state coordinate dalla procura della Repubblica di Cassino, alla quale il 65enne è stato denunciato a piede libero.